Saluto a tutte e a tutti. Il mio intervento è una esortazione al voto, non perché l'astensione sia di per sé illegittima, ma perché l'astensione può essere pericolosa e in questo caso lo è. Infatti, nel caso di una maggioranza parlamentare pari o superiore ai due terzi, la forza politica che detiene quella maggioranza è in grado, se lo vuole, di modificare, cambiare ex novo la Costituzione senza passare attraverso il referendum popolare. Ora, noi sappiamo che è progetto delle destre quello di cambiare la Costituzione in senso presidenzialistico o semipresidenzialistico, non è ancora chiaro. Noi sappiamo anche che di per sé presidenzialismo e semipresidenzialismo non sono forme di governo antidemocratiche, naturalmente, e tuttavia hanno una caratteristica fondamentale, cioè che mettono il vertice dello Stato, che può essere anche il vertice del governo, mettono il vertice dello Stato all'interno della contesa politica, politicizzano il vertice dello Stato, insomma, il che significa che il potere supremo non è più un potere neutro, un potere di garanzia, ma è un potere di parte, un potere politico. Questo è, da una parte, secondo alcuni, positivo perché implica che i cittadini si riconoscono facilmente ed immediatamente in ciò che la politica e l'esecutivo determinano, certamente. Dall'altra, però, una forma politica, una forma di governo di questo tipo ha in sé un grosso rischio, cioè che il giorno delle elezioni in realtà sia sul piatto, sul tavolo, sia messo in gioco l'intero sistema di potere del Paese, la maggioranza della Camera, la maggioranza del Senato e non soltanto quindi il governo di conseguenza, ma anche la più alta carica dello Stato, la Presidenza della Repubblica. Ogni forma di potere sarebbe quindi partitica. Non esisterebbero più, come dicevo, poteri neutri di garanzia. Ora, questo è possibile in Paesi che abbiano un robusto senso di unità nazionale e istituzionale e abbiano in ogni caso contrappesi al potere schiacciante di chi ha vinto le elezioni. Negli Stati Uniti il contrappeso è dato dal fatto che gli Stati Uniti sono una federazione di 50 stati e quindi il Presidente degli Stati Uniti non è in alcun modo il padrone del Paese. In Francia, dove c'è il semipresidenzialismo, il contrappeso è dato dalla robusta struttura amministrativa storica dello Stato francese. Ma in Italia quale sarebbe il contrappeso alla completa politicizzazione in senso partitico di tutte le cariche politiche apicali per evitare il rischio di ogni volta che si va a elezioni di consegnare integralmente il Paese a questo o quella forza politica, è necessario andare a votare in modo tale che anche chi vince, se vince, non abbia la maggioranza dei due terzi in Parlamento e quindi se vuole fare delle riforme costituzionali debba comunque sia passare per un referendum popolare. Grazie per l'attenzione.